Dalla Toscana alla Sicilia sono stati sequestrati beni e denaro per 8,5 milioni di euro a 5 imprenditori del settore del commercio di abbigliamento che avrebbero, secondo gli inquirenti, messo in piedi uno schema societario ideato per realizzare una frode fiscale milionaria. A scoprirla sono stati i finanzieri della compagnia di San Giovanni Valdarno in provincia di Arezzo con il supporto di altri reparti di Palermo, Siena e Lucca. Le indagini sono partite nel 2019 dall'esame dei flussi finanziari e dei rapporti commerciali intercorsi tra una società austriaca e una con seda, Teronova Bracciolini. Nel novembre del 2020 un primo arresto di un imprenditore per reati fiscali, tra questi fatture per operazioni inesistenti per oltre 14 milioni di euro. Le indagini hanno poi confermato il ruolo di alcune società cartiere con rilevanti volumi di affari. In pratica scatole vuote amministrate da prestanome in tutto dieci le società che sono state passate al vaglio dai finanzieri con sede in varie province toscane e nel Lazio. Secondo gli inquirenti sarebbero stati sottratti ben 8 milioni e mezzo di euro al fisco. Il sequestro ha riguardato depositi di denaro sui contocorrenti, ma anche beni mobili ed immobili dislocati tra Palermo, Lucca, Siena e il Valdarno Aretino.